presentati ciao mi chiamo Claudia e ho 9 anni e vado in quarta B cosa vuoi fare da grande? voglio fare la psicologa se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? dirti una barzelletta la maestra chiede a Pierino di studiare 5 canali e Pierino torna a casa e accende la tv il primo canale è tanti auguri a te e il secondo che me ne frega a me e il terzo è con il passagino chicco si va più veloce e il quarto no tanto alle chiavi e il quinto è alleluia e torna a scuola e la maestra gli chiede che canali hai studiato e Pierino gli dice tanti auguri a te, tanti auguri a te e la maestra gli risponde e la maestra gli dice non è il mio compleanno e gli dice che me ne frega a me che me ne frega a me ti mando dal preside e con il passagino chicco si va più veloce con il passagino chicco si va più veloce e ti chiudo in una sbarra tanto alle chiavi, tanto alle chiavi ti butto dalla finestra ti butto dalla finestra alleluia, alleluia saluto il pubblico a casa saluto i miei cugini, i miei parenti e mia mamma ti non è veri vabbè ti non è veri